E meno male che doveva essere un governo di alto profilo tecnico istituzionale. Tra i veri poteri forti e la Giorgiona nazionale era stata annunciata una luna di miele e invece sono rimasti solo trombamici della serie Giorgiet, qua butta male. Meglio che sta figura di merda te l'accolli te e il circobarnum che ti sta intorno. Ed ecco così che nasce questo ennesimo governicchio, con ben undici riciclati dai gloriosi anni del centrodestra berlusconiano. Così, se butta veramente male, rientra nel campo i competenti e si riparte da capo. La storia italiana come un interminabile gioco del loca. Se c'è una cosa che contraddistingue da sempre la destra reazionaria è quella di essere forte coi deboli e debole coi forti. E Berlusconi e Salvini, deboli come adesso, non lo sono stati mai. E quindi giù mazzate. Da prima delle elezioni abbiamo ripetuto in ogni modo possibile e immaginabile che con quell'operazione di guerra psicologica, che è stata la bomba mediatica del dossier fuffa sui finanziamenti russi ai partiti, Washington aveva chiaramente mandato un messaggio alla Giorgiona nazionale. Il Salvini del Metropol andava in ogni modo tenuto lontano dal Viminale, che, lo ricordiamo, significa anche essere parte del Consiglio Supremo di Difesa. Dopo le elezioni però i giornali riportavano un giorno sì e l'altro pure trattative immaginarie del capitano per strappare quell'incarico. Stai a vedere che a questo giro davvero non ci abbiamo capito una sega niente. E come ci dicono i nostri detrattori, davvero siamo dei complottisti invasati che vedono lo zampino di Washington ovunque, tipo stato allucinatorio permanente. E invece gli è andata pure peggio. Non solo niente viminale, ma pure niente agricoltura e, a quanto pare, nemmeno la delega per le capitanerie di Porto. Ma soprattutto la pugnalata più grande, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di gran lunga il più importante, al competitore interno Giorgetti. Una vera e propria umiliazione. Anche per Silvione è flop totale. L'unico ministero di peso che tocca i suoi è quello degli esteri, affidato all'ex monarchico Antonio Tajani, che ormai sta al Silvione nazionale come Giorgetti sta a Salvini. Insomma, ci mancava solo di mettessere un ginocchio sui ceci dietro la lavagna. Ma c'è anche chi per le sue presupposte simpatie putiniane alla fine è stato premiato. È Gennaro San Giuliano, che di Putin è stato anche biografo, ma si è rifatto abbondantemente negli ultimi otto mesi di direzione del Tg2, durante i quali, per farsi perdonare, è arrivato addirittura a spacciare delle immagini di un videogioco per immagini reali dell'efferato genocidio compiuto dai russi in Ucraina. Guiderà la cultura, sì, delle fake news. Per definire esattamente la punizione esemplare da infliggere ai due leader troppo incline all'appeasement con il diavolo che veste l'Europiana, la Meloni, il grosso della giornata più importante della sua vita, decide di passarlo testa a testa con Mattarella. Ottanta minuti di colloquio, riportano le cronache. Contro i dieci minuti scarsi che è durato l'incontro con tutte le delegazioni della maggioranza. È così che nasce il governo Meloni, Mattarella, Draghi. Liscio come l'olio e senza riserve. In tutta la storia repubblicana era successo soltanto altre quattro volte, su 68. D'altronde, stringi stringi, è un po' la riconferma di quello uscente, almeno nelle cose che contano. Più Washington e più mercato. Il resto sono chiacchiere. Caro Presidente, caro San Mario Pio, amici e amiche che ci seguite da Washington, lo so, la mia maggioranza è piena di casi umani, a partire da questo signor anziano alla mia destra che si è messo la maschera di candy barbie e fa le faccine. Ma chi se li incula? Voi dite a me e ci penso io. Come riconosce lucidamente anche il foglio, un governo formato in prevalenza da forze politiche atlantiste, ma non europeiste. E quindi, conclude, che si presenta con un passo giusto e con alcune caratteristiche che più che preoccupanti si presentano come incoraggianti. Se lo dice lui. Accettata supinamente ogni forma di commissariamento possibile e immaginabile, la Giorgia nazionale prova a salvare la faccia con chi l'ha votata, pensando di svoltare rispetto alla stagione dei migliori sudditi di Washington, con un bastimento carico di fuffa, a partire dalla modifica dei nomi dei ministeri. D'altronde il naming per post, ex e veri fascisti è sempre stata una passione. E così il ministero dell'istruzione diventa il ministero del merito, che visto come hanno trasformato in modo bipartisan la scuola pubblica negli ultimi 30 anni, sostanzialmente si traduce esclusivamente nel merito di essere nati in una famiglia ricca, che può permettersi di farti studiare in privato tutto quello che a scuola non c'è più modo di imparare. E per gli altri c'è sempre la possibilità di schiantare schiacciati sotto una bella lastra di acciaio in alternanza scuola-schiavitù. Il ministro del sud invece diventa ministro del mare, che è l'unica cosa che al sud sono intenzionati a lasciarli. Il governo che, come dice la verità, dopo anni di conformismo torna alla realtà, sa benissimo che far crescere tutta l'Italia è una mission impossible e quindi ha deciso di dividerla definitivamente in due. È la missione del ministro delle autonomie, differenziate, affidate a un mastino del suprematismo nordista come Roberto Calderoli. Al sud non rimane che farsene una ragione, una vita in vacanza degli altri. E noi a servire ai tavoli, per due lire, che dovremo accettare perché il reddito di cittadinanza, almeno per come lo abbiamo conosciuto ad oggi, non ci sarà più. A smantellarlo ci dovrà pensare Marina Calderone, una consulente aziendale al Ministero del Lavoro, che è un'altra vittoria del femminismo in salsa finto sovranista. Finalmente potrà comandare il marito, componente del CDA dell'Inps, che dal suo ministero dipende direttamente. Ed è di gran lunga il minore dei conflitti di interesse della nuova compagine di governo. Come è stato detto, a vincere a mani basse è stato il complesso militare balneare. A presidiare la parte balneare è Daniela Canotto Santanchè, che dovrà occuparsi di turismo, il riconoscimento di una lunga carriera, il cui apice è stato questo. Sequestrata la capanna della Santanchè al Tuiga, è abusiva. Sarà lei a preparare le aste per l'aggiudicazione delle concessioni balneari? Una garanzia. Ma ben più consistente in realtà è la parte militare, che ora ha un ministro tutto suo, il ministro della difesa, dell'industria bellica. A guidarlo sarà lo Shrek sovranista, Guido Crosetto. Un inossidabile. Pensate che è riuscita a sopravvivere addirittura a un endorsement di Carletto Libro Cuore Calenda, che l'avrebbe visto bene addirittura come premier. C'è chi è finito in disgrazia per molto, molto meno. Nel 2013 aveva vissuto qualche giorno difficile quando avevano sgamato che nei curricula ci infilava pure una laurea in economia e commercio inventata. In Germania avrebbe dovuto cambiare mestiere. In Italia è una prova di furbizia che apre le porte. A lui, ad esempio, ha aperto quella della presidenza dell'Aiad, l'associazione di categoria dell'industria aerospaziale, che negli ultimi dieci anni ha intascato oltre 3 miliardi di euro di prestiti dallo Stato, che poi a regola avrebbe anche dovuto restituire e che invece sono scomparsi nel nulla. Come collaboratore di Report ho provato a chiedere un'intervista a Crosetto su questo tema per oltre un anno. Non mi ha mai nemmeno risposto. È il livello di trasparenza che vuole portare fino a dentro il ministero. Se si vuole cooperare o meno con un paese, deve deciderlo il governo, ragionando a lungo termine, non il Parlamento, affermava l'anno scorso durante un'audizione in Commissione Difesa. Si parlava di autorizzazione all'export di armi italiane ai sauditi, che poi le usano per massacrare i bambini in Yemen. Un altro che finalmente squarcia la cappa del conformismo e ci riporta alla realtà. Al photo finish, Crosetto ha fregato il posto ad Adolfo Urzo, poraccio, e direi che si era prodigato assai, prima con le figurette delle liste di proscrizione del Copasir, e poi volando a Washington per disinnescare la bomba del dossier che agguanta citrulli dell'intelligence USA sui finanziamenti russi ai partiti, a pesare probabilmente i suoi vecchi presunti rapporti con una società che avrebbe tentato di vendere alcuni elicotteri Black Hawk alle milizie iraniane guidate da Kassem Soleimani. Per compensarlo comunque, gli hanno dato niente po' di meno che lo sviluppo economico, che però, siccome di sviluppo all'orizzonte non ce n'è più, hanno ribattezzato il Ministero del Made in Italy. Come scrive Jacobin, l'ennesimo appello alla logica vetusta dell'export a tutti i costi, tutta etichetta tricolore su prodotti da vendere altrove, mentre il mercato interno è ucciso da una compressione salariale senza fine. Tra tutti i cambi di nome, però, ce n'è anche uno che non ci dispiace affatto. Il Ministero dell'Agricoltura diventa Ministero della Sovranità Alimentare. Da oltre 20 anni, una delle principali parole d'ordine del movimento altermondista. Peccato che più che sovranità nazionale, mi sa che intendono sovranità familiare. Uno dei ministeri da sempre più ghiotti, e ancora di più oggi col PNRR, rimane tra le mura domestiche della Premier. A guidarlo, infatti, sarà Francesco Lollobrigida, marito di Arianna Meloni, sorella di Giorgia. Non la vorrei gufare, ma l'ultima volta che sono stati coinvolti i cognati, non andò proprio benissimo. Ricordate Giancarlo Tugliani? Era il fratello minore della compagna di Gianfranco Fini. Fu al centro di una campagna di stampa feroce da parte di Libero e il Giornale, che portò definitivamente al tramonto politico il leader di Alleanza Nazionale, reo di aver contestato la linea politica del Cavaliere. Al centro dello scandalo, una casa a Monte Carlo, di 45 metri quadrati. Chissà che il Caimano non trovi il modo di sorprenderci anche questa volta. Se invece tu non vuoi farti cogliere impreparato, spegni il mainstream e accendi Ottolina. E soprattutto sostienila. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe. E chi non aderisce è cognato della Meloni. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.